un saluto a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere come spostarci sulla mappa di pokemon go questo trucco è aggiornato ad oggi il 19 aprile 2017 e sostituisce quello precedente con go gps allora basta scala installare gps joystick dal market andiamo qui possiamo aggiornare i fix gps posizioni reali qui ci fa usare l'ultima località la località corrente e qua ci fa scegliere dove vogliamo se non sappiamo la latitudine la longitudine andiamo a cliccare sulla mappa e impostiamo un luogo dove vogliamo essere adesso io dovrei essere in america infatti vedete attualmente sono sulla long beach ave a los angeles però possiamo metterci che ne so in centro a los angeles ad esempio seleziona questa posizione ok selezioniamo la noi ci cambierà tutti i dati ed ecco fatto una volta fatto ciò andiamo a cliccare su start e ci parirà la pubblicità clicchiamo no e ci parirà il nostro joystick con la quale ci muoveremo e sceglieremo la velocità per spostarlo se clicca qui in alto andiamo ad aprire pokemon go eccoci qua quella schermata che avete visto è un difetto di del mio s6 sta caricando il nostro gioco come sempre vi consiglio di utilizzarlo in maniera abbastanza normale nel senso che noi siamo stati ieri a los angeles oggi non possiamo essere dall'altra parte del mondo quindi usarlo in maniera abbastanza realistica vedete si stiamo muovendo vedete e niente questo è tutto se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al mio canale ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti